Quella che presentiamo qui al SAI Innovation è la prima intonacatrice a livello mondiale alimentata da un pacco batterie. Che cosa significa avere un intonacatrice del genere in cantiere? Significa avere una macchina ecologica rispettosa dell'ambiente e soprattutto rispondere a tre esigenze importanti che sono la riduzione delle emissioni e con questa macchina le riduciamo a zero, quindi zero emissioni di CO2 e una riduzione importante delle emissioni sonore, questo soprattutto per un comfort di utilizzo da parte dell'operatore che ne ha contatto l'intera giornata. In terzo luogo non meno importante è il fattore economico perché con questa macchina abbattiamo notevolmente i costi di gestione e manutenzione. È dotata di dispositivi come dicevo che permettono il comfort di utilizzo e anche la facilità di utilizzo come per esempio il Niagara System che è un dispositivo brevettato a livello europeo che consente la praticità di lavare la tramoggia grazie appunto a una leva che è posta nella parte frontale della macchina. Noi solleviamo in blocco la pompa a vite insieme alla coclea, questo permette di liberare un punto di uscita di scarico che lascia defluire il materiale residuo senza ostacoli. È inoltre dotata di un sistema di attenuatore di polveri per trattenere le polveri che si liberano durante la rottura del sacco. Insomma è una macchina concepita per un cantiere moderno all'avanguardia e che risponde appunto alle esigenze che vengono richieste attualmente dalle certificazioni, da tutti i discorsi legati all'ambiente e da un'economia green. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.